Ogni giorno ci rapportiamo ai luoghi, li abitiamo, li rendiamo unici con il nostro sguardo e il nostro percorso. Come in un ballo dove i danzatori volteggiano elegantemente attorno a scenografie di tavoli e sedie. Dal 1963 i nostri mobili costruiscono lo spazio dei nostri clienti, raccontando le sfide e le vittorie della loro vita. Arredare significa scrivere ogni volta una nuova storia. Buon tempi casa